ho comprato un'altra minchiata perché l'ho comprato prima di tutto che cazzo è è un adattatore cioè da come vedi dall'immagine per utilizzare il controller usb nel mio caso io voglio usare il joystick se il volante il volante sulla playstation 2 tu dici perché perché io ho tre giochi per la playstation 2 che pochi non sono giocarli con il joystick c'è sì ma anche no c'è o un volante cazzo voglio provare ad usarlo c'è c'è non mi va di cerito tenerlo la perché oddio vabbè senti vabbè vabbè a posto questo si butta questo a posto poi mi riguarda la registrazione per vedere questo c'è vedi qua qua c'ha l'usb quello vabbè come vedete io l'ho già provato per vedere se funziona molti cavi li ho messi nel cassetto cioè sono cavi inutili poi questo c'è giustamente è l'attacco c'è dalla playstation 2 che si mette cioè si mette nella playstation 2 funziona funziona ma poi risolveremo in modo drastico il problema quindi praticamente questo è la usb del volante vedi è tutto qui questo si mette c'è questo è un adattatore cioè perché funziona pure bene però senti cioè collegando con l'adattatore praticamente c'è la vibrazione del del volante io non ho capito perché non la posso disattivare vabbè tu dici cioè quale qual è il modo drastico per risolvere si apri volante c'è praticamente voi ci avete presente quei cosi che stanno pure dentro i joystick che stanno pure qua dentro non riesco neanche a parlare per quanto vibra sto schifo in pratica c'è quei cosi che fanno vibrare i joystick per dare l'esperienza realistica mandate voi l'esperienza realistica cioè che nei joystick c'è sta qua ok ho trovato c'è un tutorial su come smontare suo coso io c'è praticamente io lo smonto e gli tolgo i cosi che lo fanno vibrare perché tolto quello funziona perfettamente c'è vedi ho già trovato un tutorial di questo che lo apre si vede che per logica che per logica c'è questi due cosi c'è sono i cosi che fanno rim cioè che fanno come cazzo funziona vibrare tutto vabbè tolto quello non ho le non è cazzo vabbè poi poi li vado a comprare sti cazzo tolto quello vedi funziona qual è il fatto apposta vedi funziona tolto quello funziona tutto perfettamente cioè vedi questo è il freno a mano vedi vabbè lo devo smontare sotto un fisicante poi lo faremo poi lo smonteremo senza romperlo il dove mi sono perso il live sopra twitch perché c'è io ho provato perché poi da pure fastidia alle mani c'è quindi questo funziona assolutamente sì funziona però mi attiva forzatamente la vibrazione non ho capito perché se avete dei consigli c'è boh scrivetemi li io intanto a prescindere la vibrazione la disattiva in qualsiasi altro gioco oppure in mare cazzo ne so sul risico che vabbè cioè io la vibrazione la disattiva in qualsiasi gioco ovunque c'è quindi comunque mi conviene a prescindere che no non non penso ci sia qualche poi vabbè tu dici ma che volante è un volante da 100 euro di merda però come funziona cioè devo prendere un cazzo non so se riesco a farvelo vedere se un cazzo no vabbè sono scemo non è di questo il cacciavite è del volante vabbè comunque è a stella ho visto prima comunque c'è niente funziona c'è quindi l'acquisto promosso non lo comprate cioè se lo dovete comprare non lo comprate perché costa 50 euro sta me c'è sta merda io l'ho comprato con il buono che mi hanno fatto per il regalo del mio compleanno vabbè mi hanno fatto un buono da 50 euro tu cioè tu guarda mi avevano regalato questo che costava mi avevano fatto un buono da 50 euro tu guarda ho trovato questo che costava 50 euro funziona perché ho fatto due oltre la domanda se collega un volante usb funziona sì nessuno mi ha mai detto che mi attiva forzatamente la vibrazione però vabbè andrò io a staccare i vibrati come si possono chiamare i vibratori cioè i cosi che fanno vibrare che fanno la vibrazione sui joystick semplicemente la sopra ce ne sono due vabbè sono dei corsi elettronici stacco il cavo c'è boce stacco il cavo e proviamo vabbè andremo a tentativi ripeto non lo comprate vi giuro c'è fate prima comprare un volante per la presa su un 2 ma tu non ce l'avevi già si si è rotto e non volevo cioè fare metti toglie metti cioè il volante deve essere uno compatibile un po con tutto pure di merda oppure compatibile male con gli adattatori tipo questo però c'è vabbè finché funzioni il problema è solo la vibrazione si prende si levano di cui di vibratori ma 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 Grazie.